Allora, l'Eclex sostituisce l'intera power unit, quindi partirà in ultima posizione. Stessa natura dovrebbe avere Max Verstappen, anche lui cambierà motore, cambio e quindi in teoria la lotta mondiale è nelle retrovie. Poi Mercedes si presenta in Belgio con un nuovo fondo e non dovrebbe correre con la parte rossa in pista, quindi la livrea è un pelo più carina. Audi entra in Formula 1 fino al 2026 e contemporaneamente Alfa Romeo lascia la partnership con Sauber. Anche qui abbiamo da argomentare perché il caso non è mai casuale, come diceva il nostro caro mitico albino. Mick Schumacher è letteralmente a un passo dal pin, quindi per Ricciardo si fa dura, rimangono solo due posti, anche lì ne parliamo bene dopo. E infine il Gran Premio del Belgio in teoria dovrebbe rimanere in calendario l'anno prossimo. Non vedremo più il GP francese, il por Ricciardo è Monza Rischia, esattamente, Monza Rischia. Nella mia testa oggi essendo venerdì era il giorno di pausa, mi sarei guardato con calma le prove libere, avrei analizzato tutto in vista di domani e invece mi tocca correre. Perdonatemi solo per la data di pubblicazione, ma prima non riuscivo. Sono stato preso un po' in controtempo da tutte queste notizie, però che Leclerc partisse con una penalità era abbastanza scontato. Si parlava solo di 5 posizioni di penalità all'inizio, poi sono diventate 10 perché voleva cambiare anche il termico, alla fine si è optato per cambiare tutto il pacchetto. Quindi, power unit numero 5, smarcata. E tra l'altro debutta il nuovo ibrido, non era scontato ed è giusto specificarlo. Una scelta molto forte da parte di Scuderia Ferrari, dopo il Gran Premio di Budapest non era scontato. Anche in questa occasione Leclerc è costretto in una gara e rimonta, ma il fatto che Verstappen ti parta a fianco è comunque una buona notizia. Adesso non dico che è un obbligo, però sia Sainz che Perez hanno come obiettivo la vittoria. Sedendo entrambi su una macchina importante e vedere le Mercedes magari davanti, e non le cito a caso perché si sta parlando tantissimo del team tedesco in questo periodo, sarebbe un fallimento. Questa gara è un banco di prova per tanti. Il meteo non è proprio dei più favorevoli, forse forse aiuta Mercedes, però come obiettivo sia di Sainz, ripeto, che di Perez è lottare per la vittoria. Poi se devo dire anche la mia reputo Sainz un pelino più forte di Perez, tra l'altro siede su una macchina un pelino più forte della Red Bull, e quindi mi piacerebbe vedere lo spagnolo sul grattino più alto del podio. Sicuramente se Lewis Hamilton si piazza sopra questi due non ci fanno una bella figura, ecco. O anche Russell, è indifferente. Invece adesso passiamo a Max Verstappen. Non so se nel video riuscirò a mettervi fonti italiane, però al momento in cui sto registrando la notizia che l'olandese partirà dall'ultima posizione, ce la dà Van Haren, giornalista per Telegraph olandese, quindi molto vicino a lui. Parte ultimo, perché anche lui cambierà l'intera power unit, è il cambio. Questa la possiamo giudicare una scelta abbastanza conservativa, abbastanza difensiva, in quanto oggi, dato che Leclerc cambia la power unit, se la cambia anche te, salvo clamorosi colpi di scena, la classifica rimarrà invariata tra Leclerc, tra il Monegasco e il campione del mondo. Ti presenterai poi in Olanda da favorita perché è il gran primo di casa del tuo pilota di punta, anche se poi per caratteristiche del circuito non lo direi così ad alta voce. La trazione conta molto a Zandvoord, ma in linea ipotetica rimani pari a Spa e in Olanda il tuo compito porterà a casa la vittoria e si arriva poi a Monza. Sono passate altre gare dove i punti rimangono più o meno stabili e poi la vedo una scelta dettata anche dalla visaglia che ha avuto in Q3 e in Ungheria. Se ricordate la Red Bull di Perez e di Verstappen sono partite nelle retrovie, o almeno a centrogriglia, nel caso di Verstappen, per un problema all'MGU-K. Potrebbe essere stato un campanello di allarme, una visaglia, se ho optato per giocare tranquilli e al momento la scelta la capisco. Preciso comunque che molto probabilmente Red Bull avrebbe cambiato prima o poi Power Unit. Era difficile arrivasse contro i Power Unit alla fine dell'anno, però farlo adesso è importante strategicamente. Potrebbe consolidare il vantaggio fino all'ultimo quarto di stagione, che a quel punto è impossibile di montare. Ma farlo adesso significa anche mettersi a riparo da Ferrari che sta sviluppando un'ala posteriore totalmente dedicata a Monza. Queste sono le prime voci che girano. Ovvio l'ala posteriore e l'ala anteriore sono sempre dedicate a un circuito, però il fatto che si sta puntando molto a Monza è un buon segnale. Ripeto, è giusto che Red Bull adesso stia sulla difensiva. Solo il meteo può fare brutti scherzi. E chi sa mai che. Altra notizia importante è ufficiale che Audi entrerà in Formula 1. Mancava solo l'ufficialità, lo si sapeva, l'avevamo stradetto. E adesso sembra anche essersi aperta alla possibilità di una partnership, in questo caso con Sauber. Dato che Alfa Romeo ha deciso di abbandonare questo percorso iniziato nel 2017 e conclusosi nel 2023. Tra l'altro doveva fermarsi lo scorso anno, era un progetto lungo termine se ricordate. Alla fine Alfa Romeo quest'anno non ha deluso ma non ha neanche stupito. Walter ribotta se è un pilota forte e ci sta che vada forte. Guan Yu Zhou sta facendo un percorso in crescita, però per altri motivi si è deciso di andare su un'altra strada. E quindi probabilmente sarà Audi a sostituire quest'ultima. Se ci pensate il primo passo per questa partnership era stato fatto a Ingolstadt, sede di Audi. Adesso si è liberato un posto, insomma vedo tutto lineare. Altra mega novità è Mercedes, l'ho detto, fondo nuovo che analizzeremo con calma domani perché adesso non sto guardando le prove libere per fare questo video. Le recupererò promesso. Ma è anche il probabilissimo passaggio di Mick Schumacher in Alpine. Siamo quasi addirittura di arrivo, è molto probabile. E questo mette molto più in difficoltà Daniel Ricciardo perché rimangono essenzialmente due posti. Williams e Ass. Io vedo molto più probabile un Nick De Vries o Surgent che vadano in quest'ultima. Lo sto ripetendo da 37 anni. Nick De Vries un pelo meno, mi piacerebbe vedere Surgent. Già Albon è un pilota di più in Williams che poi sta facendo bene un'altra storia. Però avere Ricciardo Albon a livello di nomi non è malvagio come team ma non ha futuro. E potrebbe essere una scelta che non paga poi dopo. Quindi rimarrebbe solo Ass ma vado a ripetervi il discorso di ieri. Tra Giovinazzi e Ricciardo non prende i Giovinazzi? Conosce la monoposto che va a guidare? È un pilota che è più giovane d'età, ti costa di meno. Ricciardo ha dalla sua l'esperienza ma non ha dalla sua le performance. E anche Giovinazzi qualcuno può dire. Va benissimo però ti costa di meno. Poi avere un pilota italiano in griglia è sempre utile. Altra novità che è arrivata in questo preciso istante e ve la leggo. Fonte Formula 1 in generale. Anche Norris cambierà la power unit e partirà nelle retrovie. Ma non solo perché abbiamo anche Bottas, Ocon e Schumacher. La mia domanda sorge spontanea. Questo gran premio chi lo deve vincere? Stroll? Latifi? Sarà un gran premio anomalo al 100% perché se il medio rimane così. E questi sono tutti i piloti che partono dietro. Nulla esclude uno scenario stravagante. Anzi è già uno scenario stravagante. Infine ultima parentesi sui circuiti. Come ho detto all'inizio. Spa e Salva. I porriciard. E out. Monza Rischia. Monza Rischia ce lo comunica domenicali. Sarebbero incriminate le condizioni della pista. Ma al momento nulla di ufficiale c'è. So soltanto che adesso mi tocca recuperarmi le prove libere numero 1. Prima dell'inizio delle prove libere numero 2. Quindi io vi saluto. Perdonatemi per le condizioni estetiche non proprio eccelse. E perdonatemi anche per come ho esposto a voi le notizie. Ma sono tante. C'è poco tempo. E dovevo informarvi. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così magari valutate la descrizione. Da Tonio. Era tutto. Passo. E chiudo.